Quando lacrimò anche Gesù Cristo, di Nikos Lieros, nello stesso giardino si sono sedute in mezzo ai fiori. Adesso che li vedo da vicino ho pensato... Cosa hai pensato? Non sono così a caso. Cosa vuoi dire? Assomigliano a lacrime. Ma tu non dicevi che assomigliavano agli uomini? Ma l'uno non contraddice l'altro. Sono uomini che piangono. Non lo so se sono loro. Non ti capisco. Un altro ha pianto. Perché? Perché ha visto il destino. Chi ha pianto per noi? Lui. Eh sì, mi dirai, chi altro? Gli altri ci hanno lasciato nella nostra povertà. E ci è rimasto solo la bellezza. Perché la bellezza salverà il mondo. Salverà anche noi? Guardati intorno. Cosa vedi? I fiori gialli. Cos'altro? Sono le lacrime della testa d'oro.